Sonia Bruganelli pronta a lasciare GF Vip, ecco perché. Sonia Bruganelli non siederà in studio per la terza volta come opinionista, e pronta a lasciare il GF Vip. Certo, lo aveva detto anche lo scorso anno, prima dell'edizione numero 7, quella attuale delle reality show. Stavolta però la 49enne sembra decisa ad abdicare, a TV sorrisi e canzoni spiega perché. Quando gli si domanda cosa farebbe se Signorini le chiedesse di rimanere per il terzo anno di seguito al GF Vip. La produttrice 49enne, moglie di Paolo Bonogli non ha dubbi. Credo sia il turno dei giovani. Spero che alcune delle ragazze uscite dal GF Vip, come Giulia Salemi e Soleil Sorge, abbiano questa possibilità. Per loro è un modo per mettersi in gioco senza la responsabilità della conduzione, chiarisce Sonia. Lei ha vissuto benissimo questa ultima edizione, ormai agli sgoccioli, è stata meno impegnativa della prima. Ormai conosco i meccanismi del programma. Anche il feeling con Orietta Berti l'ha aiutata. Nonostante l'impegno in TV e con la sua società di produzione, la SDL 2005, la Bruganelli riesce a ritagliarsi del tempo tutto per sé. Sonia tutti i fine settimana, o quasi, parte, vado a Trieste a trovare mio figlio Davide. Che gioca nella Triestina. Il weekend lo dedico ai miei ragazzi, a volte vado a fare un aperitivo con le amiche. I tempi morti li sfrutto per respirare o fare la spesa, come tutti, il sabato o la domenica mattina. Oppure, come domenica scorsa, vado a trovare papà che non c'è più. Tu meretate printre talea culte, încerc flow-uri sute la show-uri puite, cum rup capete lumea de din capă rupte. Tobele bat cu inima deodată, nu le opresc, că nu-s atât de nebun, mă gândesc tu ce crezi. Orice crezi ține pentru tine, fii egoista, liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din tot, tot MC-ul care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic avezi tu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu? Tre' să depășesc plutonul cu fiecare text pe, mafia, parasiții, dragonul, maxi, ghespe. Chimie, rimaru, spike, buia, si, swap-o, grasul, nimeni altu, te-l vedeți, sau carbo. Tre' să vă mănânci vers cu vers, card intens, tre'